Color Your Life, giovani talenti crescono! Solo mettendosi in gioco si può capire cosa si è in grado di fare. A costo di fallire, vale la pena provarci. Abbiamo una missione precisa, aiutare i giovani a conoscere se stessi e a scoprire i propri talenti nel campo artistico, scientifico e dei mestieri, valorizzando il lavoro dei presidi e dei professori. Non conta da dove vieni, ma quello che vuoi diventare. Nel campo artistico, scientifico e dei mestieri, tra i giovani, quanti talenti si perdono? Noi li stiamo cercando. William Salice, persona benemerita, ha deciso ad un certo punto della sua vita di aiutare i giovani a realizzare un progetto che hanno nella testa. Per questo ha creato l'associazione No Profit Color Your Life, il cammino della felicità. Non vende chiacchiere, ma concretezza. Lo fa attraverso le scuole, al Politecnico di Torino, ha consegnato le prime lettere previ. La seconda persona che noi abbiamo dato la borsa di studio a Torino l'anno scorso, io avevo capito in quel getto che stavo sbagliando. Non si può dare soldi ai ragazzi, bisogna dare cultura che rimane per tutta la vita. Allora creiamo qualche dubbio. A Loano nasce la Dreamer School, un luogo pensato per i giovani, un luogo per incontrarsi e vivere straordinarie esperienze formative nel suggestivo chiostro di Sant'Agostino. Ogni giorno i giovani hanno lavorato con esperti internazionali, provenienti da ambiti professionali diversi, accomunati tutti dal desiderio di condividere la propria esperienza di vita con loro. I ragazzi hanno avuto la possibilità di potenziare la loro conoscenza dell'inglese con docenti madrelingua inglesi e americani, imparando e divertendosi. Non è mancato neppure il tempo per conoscere le bellezze del luogo. Se siamo riusciti a fare tutto questo, è grazie all'impegno dei docenti e dei dirigenti scolastici che hanno presentato i bandi ai propri allievi. Per ringraziarli e valorizzarli, abbiamo creato il bando Prof. 10 Lore. A vedere dei giovani che dalla mattina alle 7-10 fino alla sera sono costantemente impegnati a livello libero, a livello creativo, a livello originale, dà una grande soddisfazione. Ho avuto la possibilità di vedere fino in fondo qual è il ruolo dell'inglese all'interno di questa scuola, ed è straordinario, è molto interessante. Sì, lo ammetto, prima di venire qui avevo paura. Come una stupida, pensando di non trovarmi bene, quando mi hanno chiesto quando voglio andarvi nel 29 al 30 agosto, ho risposto il 29. Ora invece ho cambiato idea. Non voglio andarmene. Facciamo una Dream School fuori da qui. Mi spiego meglio. Rincontriamoci tutti. A Roma vi ospito io, a Legge, a Vicenza. Non è importanza, odunque vogliate. Ma rincontriamoci. Rincontriamoci. Voglio sentirmi colorata ogni singolo istante, perché con voi ho imparato a sognare.